Pretelli, Pretelli e la Salemi, Pretelli e la Salemi presto sposi, il fratello di Pierpaolo si è fatto, diventato padre recentemente, quello non famoso, e invece Berruti e Laboschi, finalmente non ho sbagliato nomi, c'è area di crisi, perché lui avrebbe fatto un film un po', non so, vattelo a vedere questo film, non so, andatevelo a vedere, magari alle donne interessa penso, allora hai capito, Berruti è questa storia qui, pare che ci sia una crisi, Laboschi è una donna che non ha mai trovato la sua, è solamente figlia di un banchiere famoso, importante, ma non ha mai trovato la sua collocazione politica, la sua collocazione sociale, è una donna in cerca di identità, non è nemmeno madre Laboschi tra l'altro, alla sua veneranda età si può definire un difetto, no? Mi diverto troppo a criticare la città, alla sua veneranda età non è un difetto, cioè i soldi non fanno la felicità, mi hanno sempre insegnato, stavo facendo le riflessioni su questo mondo VIP, gossip, cioè non è che se tu fai l'ascendiletto poi dopo diventi famosa, attenzione, non è detto, certo ti può aiutare perché conosci, però non è detto, perché poi alla fine anche far vedere le chiappe può anche non pagare, alla lunga, è chiaro che se tu dici beh ma la mia idea è quella di mettermi con l'uomo ricco che mi faccio mantenere, ok va bene, come fa la cosa, quella bionda patinata, quella lì fa l'ascendiletto, ma non è, sì vabbè ma quella lì è già famosa poi tra l'altro, dai quella di Roma, quella sguaiata lì di 50 anni si può dire il nome, la Valeria, la Valeria, la Valeria fa, hai capito, adesso sta con uno della moda, spettacolo, va bene, sa bene come fare, no? E così, però non è semplice perché poi dopo cosa può succedere? Può succedere l'effetto boomerang, hai capito? Cioè lo fai come le gemelline, diventi come le gemelline lì, quelle lì di Dubai che vanno da Giletti, no? A far vedere le mutandine, ma quello è un altro mondo, noi parliamo di gossip, eh? Parliamo di VIP, cioè il VIP fa tendenza, capito? La Ferragni fa tendenza, Fedez fa tendenza, cioè quelli improvvi, quello è un altro mondo, vabbè, quelli sono i top, secondo me ce ne sono due o tre che sono i top, cioè quelli che hanno milioni, decine di milioni, sono fenomeni sociali, mediatici, che vanno oltre, però la, diciamo, grande fratello VIP, molti sono i meriti sconosciuti che sono tornati alla ribalta, sono i vecchi VIP, sono i VIP old style, ok? Adesso non, dopo ti spiegherò bene come funziona, è complessa la cosa, cioè, faccio un esempio, vado in uno shopping a Milano, mi dicono, mi dicono che vendono le mutande, il costume di Giulia Salemi, non vendono il mio costume, vendono quello di Giulia Salemi, quello del signore nessuno, quello di Pandino, non lo vuole nessuno, se io fossi famoso, lo vorrebbero tutti, questa è la moda, lo vorrebbero tutti, tutti, pensa al potere di queste persone, cioè il brand, vai in una discoteca, il DJ non è famoso, non ci va nessuno, non ci va nessuno, discoteca vuoto, locale fallito. faccio un po' grazie a tutti